Con Franco Fedeli, l'esordio stagionale, no? Bagnato con una vittoria straordinaria, la devo stuzzicare un po', un motivo in più per dare una mano anche a livello economico a questa compagine? Aspettiamo un attimo a dirlo, poi vedremo, prendiamo questo campionato e poi prendiamo la decisione. Piazza importante, oggi lo stadio ha fatto vedere quanta passione c'è, quanto amore c'è e soprattutto forse ha dato la spinta finale per portare a casa un successo che potrebbe indirizzare in modo definitivo la stagione? In modo definitivo no, perché ci sono due squadre davanti, molto importanti, che io conosco molto bene, però credo che non è secondo a nessuno l'Aquila. San Benedettese? Perché ovviamente fa riferimento anche a un passato importante, Franco Fedeli. Cinque anni, ho fatto presenza a metodo, un bel ricordo, bei tempi, tempo passato comunque. Una promessa da fare ai tifosi rosso-blu, questa volta a Sponda Aquilana, a Sponda Bruzzese? Ma promesse nel calcio è difficile farle, poi se non si riescono a mantenere diventa anche difficile giustificarle. Io credo che con qualche piccolo ritocco questa è una squadra importante. E ci starà a breve secondo lei o in tempo di... Non mi interesso di queste cose adesso, adesso io faccio tanto esternamente, do un aiuto... Però ha già percepito con la sua esperienza che con un paio di correzioni si potrebbe sognare in grande? Beh sì, certamente sì, certamente sì. Io quando ho entrato oggi con il numero 20 mi ho detto questo fa gol e l'ha fatto, perché si vede il giocatore.